Siamo benvenuti all'Oasis Chi è? Alan McGee Alan 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 McGee Alan McGee Torniamo indietro Voglio essere milionario un giorno Grazie Glasgow Notte Ti sei messo il trucco delle tue sorelle Se mai ti sentirò solo menzionare Quei sexy pistols Ti pentirai pure di essere dato Non vedi che sei ridicolo Ma tu ci sei mai stato a Londra? Conosci qualcuno là? No E posso oltretutto fare quello che voglio a Londra Che bello avere dei sogni Ci possiamo fidare? Servono dei sognatori in questa famiglia Avete altre bende con questo etichetto? C'hai detto? È il momento di indovinare il mondo Io oggi ho un sogno Voi sarete meglio degli YouTube Un giorno importante domani Ma tranquilla Una cazzata Quanto possiamo ancora sopravvivere? Siamo già morti Alan Che altro potrebbe succedere? Ufficiali giudiziari di merda Ufficiali giudiziari? No, 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 no Non è una pende che si chiama così Ciao Capitava ogni tanto che apparisse un gruppo Che ti cambiava la vita Dai, diamo il benvenuto agli Oasis Un soli tre anni I Oasis sono passati dall'essere degli emergenti A diventare i giganti del rock Ora lei ha una delle più grandi band del mondo Da qui in poi che succede? Da qui per me c'è un partino Club a Sunset Viene con me? Senti, da adesso avrai il mio aiuto Hai tante persone che ti vogliono bene Voglio solo che tu stia meglio, Alan Rupert mi ha detto che ora sei un Gesù Cristo nel tuo business Faccio accadere le cose, Gemma Sì, un punk Ma sei sempre un ribelle Perché ci sarà sempre qualcosa contro cui ribellarsi Questo film è una specie di documentario È un film biografico Forrest Gump mischiato a Boyzendou E' un film biografico